Tema assolutamente attuale, molto molto delicato quello dello sradicamento dalla propria casa a causa della guerra, per questo ho invitato a parlarne qui a Saratempo Luisa Chiodi ed Elisa Trenti. Buonasera e benvenute. Luisa è la presidente dell'osservatorio Balcani e Caucaso, si occupa l'osservatorio da 15 anni ormai di sud-est Europa, Turchia e Caucaso, promuovendo la costruzione, è il caso di dirlo, di un'Europa dal basso, mentre Elisa è una ricercatrice storica che fa parte del laboratorio di storia di Roveretto, che ha appena curato una mostra dedicata proprio alla vicenda dei profughi trentini durante la prima guerra mondiale. Il titolo significativo di questa mostra è Gli spostati. E allora partiamo proprio dalla condizione di questi spostati. Chi era durante la prima guerra mondiale considerato un profugo? Allora i profughi della prima guerra mondiale sono stati in Europa e diciamo soprattutto in Europa e Medio Oriente quasi 16 milioni e mezzo, di cui 110 mila circa furono i trentini. La legge sulla tutela dei profughi emanata dall'impero austro-ungarico nel 1917 definiva i profughi persone che a causa di decisioni dell'autorità o spontaneamente per pericoli imminenti della guerra avevano dovuto abbandonare il proprio domicilio oppure non poter fare nemmeno ritorno allo stesso. Più o meno simile era la definizione data anche dall'Italia perché i profughi trentini 75 mila furono evacuati all'interno dell'impero austro-ungarico mentre 35 mila nel regno d'Italia. Quindi sia profughi diciamo che si sono allontanati spontaneamente per pericoli imminenti sia profughi evacuati proprio dalle autorità militari per la loro sicurezza e per avere campo libero nelle operazioni militari. Sono state esperienze diversificate chiaramente le esperienze dei profughi trentini. All'interno dell'impero austro-ungarico sono stati mandati nella cosiddetta diaspora, cioè dispersi su un ampio territorio in Austria, in Bohemia e in Moravia oppure concentrati nei famosi campi profughi che per i trentini sono stati soprattutto i campi di Mittendorf e di Braunau. In Italia invece sono stati anche lì sparpagliati per la penisola ma concentrati soprattutto nelle regioni centro-settentrionali intorno ai grandi centri di Torino, Milano o in Liguria, Firenze. E anche oggi naturalmente abbiamo a che fare con tantissimi migranti, profughi e rifugiati e credo che sia importante oggi più che mai chiarire che cosa intendiamo con queste parole, Luisa. Sì, il diritto internazionale rispetto alla prima guerra mondiale si è evoluto, a partire dal 1951 è stato definito che cos'è un profugo. Oggi il dibattito pubblico ha cominciato a provare a distinguere con maggiore chiarezza tra colui che ha fatto domanda di asilo in un paese, l'asylum seeker, quindi colui che poi ottiene lo status giuridico di rifugiato e quindi è una persona che fugge da un contesto nel quale la sua sicurezza è messa per ragioni politiche, militari, eccetera, è messa in pericolo, la sua incolumità e infine oggi si discute tanto di una categoria diversa che sarebbe quella del profugo del migrante invece. Migrante che appunto sarebbe in particolare adesso che ci troviamo di fronte a grandi catastrofe umanitarie da considerare differente e quindi di serie B. In realtà spesso i migranti economici arrivano da paesi devastati, da conflitti precedenti, da disastri ambientali, quindi fare questa distinzione così chiaramente non è così facile. Ritornando a Aglieri, cosa accade una volta che i Trentini, perché sono quelli che rispetto a quella vicenda ci sono più vicini, una volta che arrivarono a destinazione chi si occupò di loro e cosa fecero? Fu il ministero dell'interno austriaco a occuparsi dell'assistenza ai profughi attraverso i capitani distruttuali e organizzò ovviamente l'alloggio, il vitto e un sussidio per i profughi diciamo meno abbienti, nullatenenti e senza un lavoro perché la discrimina era anche quella, chi possedeva delle abilità lavorative poteva essere reimpiegato, per esempio le operaie della manifattura tabacchi di Sacco, attualmente sotto Rovereto, all'epoca furono reimpiegate queste operaie nelle fabbriche, nelle manifatture tabacchi in Bohemia, a Tabor, a Budweiss oppure in Austria l'Inz. La maggior parte della popolazione che invece non poteva trovare un lavoro, era meno abbiente, pensiamo magari a donne con molti figli o con persone anziane anche a carico, ecco furono sussidiate dallo Stato. La penuria degli alloggi e anche le condizioni igienico-sanitarie erano pessime, per cui si affiancarono all'opera statale anche diversi comitati di assistenza ai profughi, i parroci stessi che accompagnarono i profughi nell'esilio si fecero da intermediari per cercare di migliorare le condizioni di vita della popolazione, esponenti politici anche della minoranza linguistica italiana all'interno dell'impero austro-ungarico, come per esempio De Gasperi, si fecero portavoci per cercare di far risaltare i bisogni, far risolvere alcune situazioni problematiche dei profughi trentini. Anche in Italia, per i profughi trentini evacuati nel Regno d'Italia, l'organizzazione dell'assistenza era a carico del Ministero dell'Interno, ma con ampie libertà concesse a questi comitati di assistenza che comunque sorsero anche in Italia. Oggi guarderemo a questo come una sorta di, passate in termine, esperimento sociale, quindi mi viene da chiedere, abbiamo imparato qualcosa da questa esperienza? E quindi chi si prende cura di queste persone e quali politiche di ricollocamento sono state o saranno messe in atto per i migranti che sono arrivati e che stanno arrivando? Chiaramente oggi la galassia di chi si occupa dei profughi è molto articolata, sicuramente più articolata di una volta, ci sono organizzazioni internazionali molto più grosse, c'è tantissimo non governativo, internazionale, locale, c'è tanta realtà anche dal basso, ci sono i social network con i quali gli stessi profughi in qualche modo fanno auto-organizzazione e ne fanno tanta per quello che serve loro. È chiaro che anzitutto bisogna tenere conto che stiamo affrontando noi in questo momento una situazione molto fluida, negli anni in cui i profughi erano, in Turchia per esempio soltanto il 10% dei profughi era nei campi, il grosso della popolazione per gli ultimi 4 anni in realtà era entrata nella vita dei comuni turchi in giro per il paese, quindi si erano un po' sparpagliati, naturalmente il grosso aspettava fuori dai confini nella speranza di poter rientrare nel paese, ma in realtà hanno contribuito alla crescita economica del paese in questi anni, c'è tanta economia informale nel quale si sono potuti inserire. Quando hanno visto che la situazione non dava loro grandi possibilità di sviluppo, soprattutto e probabilmente per una sorta di apertura da parte della Turchia verso la fuoriuscita, questi si sono messi in marcia per raggiungere l'Europa centro e nord. Chi si è occupato di loro? Si è visto un movimento di solidarietà internazionale che è molto interessante, in queste ultime settimane finalmente si è mossa anche la società civile dell'Europa occidentale, ma per anni ce ne siamo letteralmente dimenticati, quindi sì, finalmente si sono visti spagnoli, ciechi e quindi anche dei volontari dell'Europa centrale andare a Lesbo a dare una mano nelle operazioni di soccorso. Si è visto in Serbia una vivacità della società civile locale nel rispondere a questo aiuto di transito sostanzialmente, quello che in questi mesi si è fatto quindi è consentire il transito. Cosa succederà una volta che queste masse di persone si ritroveranno in Germania? È tutto da vedere. La cosa fondamentale è che tutti i paesi dove i profughi sono arrivati hanno cercato di fare in modo di non essere paesi di destinazione e la grande questione, soprattutto arrivati nello spazio europeo, il problema che abbiamo affrontato anche noi come italiani, era quello delle normative che dobbiamo trasformare, le normative di Dublino, molto penalizzanti per i paesi di primo accesso, perché se la domanda di asilo la presenti nel paese di prima accoglienza, tu sei un profugo di quel paese e non dell'Unione Europea. Noi facciamo invece un passo indietro di nuovo e andiamo ad ascoltare alcuni passaggi dalle memorie di Enrico Pedrotti, uno dei tanti bambini profughi durante la Prima Guerra Mondiale. Bisognava andare via sul serio da Trento e c'era sui manifesti. Qualcuno poteva restare e andare nei paesi vicini. Ma bisognava avere la sua roba da mangiare. Tanti sacchi di farina, non ricordo quanti. Noi non avevamo mai visto sacchi di farina che nelle botteghe. Allora bisognava andare via col primo treno dei profughi. Quelli che avevano bambini dovevano andare per prima. E anche noi allora. Domandai alla mamma cosa voleva dire profughi. E mi disse che sono quelli che devono andare via dalle loro case. Adesso le donne piangevano anche per i profughi. Si doveva proprio partire e vennero quelli del comitato dei profughi ad aiutarci. Ecco, diciamo che le memorie dei profughi di allora sono state sicuramente utili agli storici per ricostruire in qualche modo una storia dal basso. Quindi mi chiedo, come stanno documentando oggi il loro viaggio i migranti? Ma i migranti in questo momento non sono preoccupati della loro memoria. Sono preoccupati di arrivare a destinazione. Quindi probabilmente gli storici in futuro... Cosa useranno? E useranno i materiali che naturalmente oggi tutta la tecnologia a disposizione è da loro. Ma è evidente che se le fanno foto con il cellulare o le loro mappe del percorso insomma utilizzano in particolare la telefonia mobile per raggiungere lo scopo e l'obiettivo di arrivare in fondo. In futuro riguarderemo tutti questi materiali per capire che cosa esprimevano. La grande difficoltà in realtà è proprio quella di vedere la loro percezione. Proprio perché non ci siamo occupati dei profughi di questi paesi per tanti anni e quando sono cominciate ad affluire ci siamo scordati di sentire le loro voci. Abbiamo uniformato il profugo in un'unica categoria e dimenticandoci che vengono da conflitti dove appunto spesso sono incontrati uno con l'altro quindi hanno narrative diverse e nessuno le ha ascoltate. Oppure appunto sono di estrazione sociale e culturale differente o quindi ci sarà la campagna, la città, la lingua kurda e quella araba. Si profonde diseguaglianze interne. Grande varietà e tutta questa varietà è stata cancellata da un'immagine unica del profugo. Quindi è terribilmente difficile in poco tempo, si è visto come abbiamo affrontato grande difficoltà in queste settimane ad ascoltare la loro questione. Quello che è chiaro è che c'è molta poca attesa di una conclusione del conflitto o dei conflitti da cui arrivano e una forte ricerca in breve tempo di una vita diversa altrove e quindi la loro, la cosa più chiara è la fretta di arrivare prima che si chiudano definitivamente i confini. E sicuramente oggi la forza dell'immagine e delle immagini è straordinaria. Anche alcune immagini penso non ce le dimenticheremo per i prossimi anni, no? E anche allora però venivano scattate fotografie e le immagini erano importanti, no Elisa? Sì, sicuramente uno degli effetti di questa guerra tecnologica moderna che è stata la prima guerra mondiale è stato anche l'utilizzo di massa della fotografia. Quindi non più una fotografia utilizzata solo dall'elite con macchine molto costose ma c'era stata una democratizzazione anche nell'utilizzo della fotografia. Le fotografie erano fondamentali per avere quasi un talismano, una reliquia da avere sempre con sé del marito magari al fronte e viceversa il marito al fronte si teneva vicino a una fotografia della propria famiglia che magari in quel momento era profuga. e quindi andare a scattarsi una fotografia in uno studio fotografico vestiti nel miglior modo possibile, ordinati con le scarpe che sembra una banalità ma non sempre i profughi all'epoca le avevano. Facendoselo prestare quindi. Facendoselo prestare magari per farsi fare la fotografia. Ecco, era di grandissima importanza per mantenere stretto il legame e mi veniva appunto un parallelo con la situazione dei profughi di oggi che la fotografia magari se la portano sul cellulare, la fotografia dei propri amici, familiari magari lasciati nei paesi d'origine. Senti, prima nel fuorionda parlavamo appunto del tentativo di cercare anche delle somiglianze e tra queste il tema dell'accoglienza anche era forte. Vuoi fare una battuta rispetto all'oggi anche? Sì, il grande problema credo nel confronto storico con l'esperienza vissuta dai profughi della prima guerra mondiale è quella del ti trovi a ben accolto dove vieni considerato dei nostri. Quindi negli anni 90 per esempio abbiamo fatto meno fatica ad accogliere i profughi che venivano dai Balcani perché li sentivamo europei. Ogni tanto c'erano degli imbarazzi quando si trattava dei profughi della Bosnia per l'identità musulmana con la quale dovevamo fare i conti, con l'esistenza di un Islam europeo. Però erano comunque europei, questa etichetta ci ha aiutato molto nell'accoglienza. Oggi in un mondo interdipendente dovremmo renderci conto che sono tutti nostri e se non lo vogliamo lo diventano. Quindi in questo senso la presa ad atto della globalizzazione delle società, dell'interdipendenza così come la vogliamo chiamare, è il passaggio fondamentale che dobbiamo fare, lo scatto culturale per imparare l'accoglienza anche verso quelli che non sentiamo come i nostri profughi. Sospendiamo questa chiacchierata così densa per andare a vedere la nostra playlist tematica. Io sto con la sposa è un film presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2014. Si tratta di una storia vera che si svolge in parallelo alla realizzazione del film. Racconta il viaggio clandestino verso la Svezia di cinque profughi palestinesi e siriani sbarcati a Lampedusa, che saranno aiutati nella loro traversata da un giornalista italiano e da moltissime altre persone. Un'immagine a lieto fine di un'Europa che si fa beffe del sistema e mostra il suo lato più umano, più solidale e, perché no, anche goliardico. Accogliamoli tutti è un libro del 2013 scritto da Luigi Manconi e Valentina Brinis che, come promette il titolo, formula una ragionevole proposta per salvare l'Italia, gli italiani e gli immigrati. Lo fa partendo da numerosi esempi virtuosi e da argomentazioni critiche, quindi senza falsa retorica o troppi paternalismi. La nave dolce è un film di Daniele Vicari che racconta l'arrivo di una nave al porto di Durazzo. È l'8 agosto del 1991 e in quella nave erano saliti a forza 20.000 albanesi attratti dal miraggio di una vita migliore. I loro sogni si incaglieranno in un respingimento di massa, il primo della storia del nostro paese, che quel giorno scopre però di essere una terra d'arrivo. E visto che ci sono, aggiungo anche altri due consigli più locali, vi invito ad andare a vedere gli spostati a Palazzo Alberti a Rovereto e il sito www.balcanicaucaso.org. Ringrazio Luisa Chiodi ed Elisa Trenti per essere state con noi e per averci portato parte della loro esperienza di ricerca, di vita e professionale. Io vi do l'appuntamento alla settimana prossima con una nuova puntata di Saratempo. Buona serata!